Ciao, buongiorno a tutti ragazzi. Allora intanto neanche sto a dirvi tutte le cazzate che stanno venendo fuori, ma a me di questo non interessa. Io dormo la notte tranquillamente perché sono convinto di quello che stiamo facendo. Come vi ripeto io sono uno come voi, né di più né di meno. Adesso stanno venendo fuori mille cavolate che io ho il vaccino falso, che avevo il covid, che sono stato arrestato. Guardate io però tutte queste voci è perché martedì farò una cosa, fino a martedì io non farò nulla perché visto che il governo non ci ha risposto è giusto prendere un'iniziativa sempre legale, sempre pacifica, però martedì la farò e poi vedrete. Questo che vi mando non è perché sono un dio o altro, è una mia volontà, ho bisogno di fare una cosa, ho voglia di fare una cosa, ho voglia di dimostrare a tutti che sono una persona normale, che sono un lavoratore del porto, che vorrà tornare a fare il lavoratore del porto. Non ho nessuna mira politica, nessuna mira di nessun tipo. L'unica cosa che voglio dirvi, io sto bene, mia moglie sta bene, mio figlio sta bene, nessuno ci sta minacciando di nulla, non abbiamo accordi con nessuno, io ho nessuna intenzione di mollare nulla, come me anche i lavoratori portori di Trieste, di Genova, io andrò solamente a due appuntamenti che ho preso precedentemente a questa mia decisione. Come Stefano Puzzer martedì farò un'iniziativa, vi ripeto, legale e pacifica, come sempre, ma ho voglia di farla, la farò e quindi fino a martedì è giusto manifestare, andare in tutte le piazze, è giusto che ognuno faccia quello che si senta. Io sono contro a questo governo perché non sta facendo rispettare i nostri diritti, lo dirò chiaramente forte, facendo un'iniziativa che sappiamo solo io e mia moglie, ma è giusto ribattere il fatto che il governo non ci ha risposto nulla. Quindi io vi dico, andiamo avanti, tutti assieme, sempre più uniti e ci vediamo martedì, vedrete che martedì ci vedremo. Ciao a tutti e non mollate. E come diciamo sempre, la gente come noi non molla mai. Ma non è solo una canzone, è un dato di fatto. Non si molla. Ciao ragazzi.